Dal 3 giugno e fino al 24 giugno, giovedì pomeriggio, ingresso gratuito al Museo di Storia della Medicina di Padova. La visita si potrà svolgere in un orario compreso tra le 14.30 e le 19, nei giovedì 3, 10, 17 e 24 giugno. Un semplice clic sul sito della struttura, link www.musme.it slash tigotadeis, Con la scelta di una fascia oraria sarà sufficiente per accedere a un vero e proprio viaggio alla scoperta della scienza, dove toccare non è vietato ma obbligatorio. La visita al Musme coinvolge tutti e cinque i sensi ed è intrigante e stimolante per gli adulti, particolarmente affascinante per bambini e ragazzi, a cui sono dedicati percorsi tematici legati alla capacità di gioco e di sperimentazione in prima persona.